Ora la palla a volo in Serie 2 maschile, la SIECO Impavida-Ortona deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. I ragazzi di Nunzio Lanci infatti sono stati sconfitti al tie-break, persi ai vantaggi dalla neopromossa Motta di Livenza. State vedendo alcune immagini. In casa Impavida non mancano i rimpianti, con maggiore lucidità nei momenti decisivi l'epilogo poteva essere favorevole alla SIECO. La gara è stata molto equilibrata e combattuta, come dimostrano i parziali 27-25, 21-25, 20-25, 25-23, 20-22, inoltre due ore e mezza di gioco. Il punto conquistato è comunque un'iniezione di fiducia per l'Impavida che ha dimostrato di saper giocare una buona palla a volo. Manca un pizzico di tranquillità che magari si acquisirà centrando il primo successo stagionale. Domenica prossima SIECO impegnata in trasferta a Brescia.